La Guardia di Finanza della Compagnia di Verbania ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una cooperativa milanese che lavora nel settore delle prestazioni di servizi resi alle imprese. Per abbattere i propri debiti di IVA e di imposte dirette con l'erario, la cooperativa utilizzava fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da un'impresa verbanese. La Coop, che attualmente è in liquidazione, i cui vertici sono stati denunciati, operava ad ampio raggio nella prestazione di servizi come giardinaggio e mano d'opera con giri d'affari che i finanzieri hanno quantificato in 20 milioni di euro. Elevato volume di affari, ampi ricavi, scarse detrazioni IVA dovute alla natura della Coop di servizi sono le premesse di quello che i finanzieri hanno scoperto nel corso dell'indagine dove dal 2009 al 2013 accertano 5 milioni di fatture false emesse da un call center di Verbania per un milione di euro di IVA che la cooperativa ha portato in detrazione. A questo risultato le fiamme gialle giungono tracciando i pagamenti delle fatture a segni emessi dalla Coop e intestati a se stessa che si risolvevano in un semplice prelievo di contanti. Peccato che il call center non esistesse più dal 2009 nonostante ci fossero fatture fino al 2013. Per un periodo l'azienda aveva riaperto ma gli unici lavori venivano svolti per la cooperativa milanese. Il titolare del call center dovrà rispondere solo per le fatture che risultano effettivamente emesse dalla sua azienda.